La famiglia delle Barbie. Elisa è la più grande? Uffa, guardano sempre le mie accolchioni. A me non piacciono. Uffa, sto dicendo, mamma. Piavola. Elisa è la più grande, ma preferisco non farglielo sapere. Cosa? Io sono la più grande. Oh, devo aldere il computer. Uff, uff, mi servite anche voi, Lady Achitti. Uff, vediamo cosa c'è scritto sull'internet per cosa fanno i fratelli maggiori. Come si comporta un fratello maggiore. Vuoi essere un fratello maggiore, ma non sai come si comporta? Beh, un fratello maggiore si prende cura dei più piccoli. Deve fare da esempio ed è sempre molto gentile. Iscriviti al canale e metti like. Uff, bene, ok, ho capito. Bene, ora che facciamo? Inizierò per vedere se... Ora è un programma di sorella maggiore. In fritta, in fritta, in fritta. Avete spento? Sì. Ok. No, stendetemi la mano mentre la stendete dal divano. Ok. Brava, stai bene. Io vado in camera. Prendi l'ascensore perché dalle scale ti puoi fare male. Ok. Mi dobbiamo prendere lo stesso, non so di cosa sta parlando. Ok, Raffa, ora scendi te. Ragazzo, guardate giù scacchi così possiamo giocarci. Ma io volevo fare un gioco manuale. Sì, anzi io. Mi dispiace, ma possono essere pericolosi. Io sto con grossa perché sono... Aspetta, no, voi due state insieme. Ma di solito io stavo con sé perché cazzo è la più grande. Ciao. Oh, e mi dice no, mi devi cambiare il pannolino. Comunque non è vero, non è più grande. Bam. Scusa, Elisa crede di essere la sorella mazzore. Ma che l'ha messa in testa? Non è assolutamente vero. Tu giusto? Certo, andiamo a chiedere a mamma. Forse hai cinto qualcosa. Sì, va. Mamma. Il pranzo è cotto tra mezz'ora, ragazzi. Dovete aspettare. No, 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 volevamo fare la fine cosa su Elisa. Elisa, è la più grande? Ma cosa state dicendo? Sei te la più grande, Casha. Ma allora per sé, Elisa, si compossa così. Non si crede la più grande. Non lo so. Ragazze, venite, giochiamo. Viviamo. Allora di pranzo? Mamma, la pasta è ancora a casa? Sì. Quindi ci affiassi bene, non ti potrai scottare. Ah, perfo. Ho dimenticato di mettere il sale. Lo prendo e no. Perché loro devono stare attenti. Ma cosa gli prende ad Elisa? Sì, me lo stavo chiedendo anch'io. Ah, era vero. Penso che Elisa si crede la più grande. Sei tu la più grande. Lo so, ma forse Elisa si crede quello. Ah, io lo vado a chiedere. Arrivò in la sciopra. Elisa? Eh, ma che ti fai con il sale? No, no, no. Non sono per il sale. Sediamoci. Devo chiederti una cosa. A proprio ora dobbiamo prendere il sale? No, è proprio importante. Elisa, ma tu sai chi è la più grande delle figlie in questa famiglia? Ma Shushen, non lo sai? Facilissimo. Io? Ma Elisa? Cosa stai dicendo? E Kasia è la più grande. Tu ne hai due anni. E Rossa tre. E Kasia ne ha cinque. Kasia, allora perché io ti sentite parlare al telefono che diceva che era la più grande? Chi è la più piccola? Elisa. E Kasia è la più grande. Oh, che bello, glielo dirai? Preferisco non farglielo sapere. Ok, ciao. Gisto? Ma Elisa, hai capito male? Io mi stavo iscrivendo all'asilo. Adesso ti racconto la mia teoria. Ma per se si messano così il fanso? Boh. Oh, quindi io sono la più piccola. Lo sei sempre stata, lo sei e sempre lo sarai. Yuhu, quindi non devo prendere il sale. Ma io non ho detto questo. Mahoglio. So, ahahah, ha 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 Oh, ahahah, ha 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 Ha, 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 ha.